Abbiamo visto la crisi della biotech, eppure non c'è salute senza ricerca. La Toscana ha fatto propria questa parola d'ordine, lanciata nel 2012 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'assessore Luigi Marroni, con i tre rettori delle Università Toscane, ha tracciato un bilancio di cinque anni di ricerca nel campo della salute, con 245 progetti finanziati per un totale di 103 milioni di euro. Promuovere l'innovazione, migliorare l'assistenza, questi gli obiettivi, ma la ricerca in sanità è considerata anche un prezioso volano per gli investimenti.